ciao ragazzi bentornati sul canale oggi abbiamo avuto un'idea pazzesca cioè di fare per la prima volta in anteprima del canale la reazione diretta praticamente di quando Debbie ha capito che aveva il nostro figlioletto pancia e quindi siamo andati nella clinica. In inglese? Quattro settimane. C'era il ritardo di quattro settimane e quindi siamo andati nella clinica Sì, e questo è tutto! E questo è il video. Ecco, questo è il battito di guardia. Cioè, grazie a tutti. E tu hai capito che i nostri figli e i nostri figli e i nostri figli e i nostri figli. E potete vedere la manina. Questo è il primo trimester del nostro check-up. E' il primo check-up. E si potrebbe vedere già la testa. Il miracolo che è successo nella nostra... E' successa subito, dopo che ci siamo sposati, lei è rimasta subito. Noi avevamo l'idea di continuare a lavorare per la stessa compagnia. ma lei è rimasta subito. E lei ha iniziato a sentire le nausee. Quindi abbiamo sospettato che fosse subito. Abbiamo avuto l'approvazione dal giudice. Tutto in fretta. Quindi abbiamo fatto una relazione per cinque anni. Ma poi, invece, quando ci siamo incontrati, tutto in fretta. Quando siamo insieme, le cose vanno. Più in fretta. Più in fretta. Anche i certificati del matrimonio. Anche i certificati del matrimonio. Dopo che abbiamo avuto la licenza e tutto. Abbiamo avuto una celebrazione. Solo i bambini di Andrea. perché era in... I am away from my family at that time. Cioè, era lontano dalla sua famiglia. Perché comunque lavorava già all'estero da vari anni. Sì. Quindi, dopo un mese di marito. Abbiamo avuto il plan di lavorare insieme. Quindi avevamo un progetto. Cioè, di lavorare insieme. In questa compagnia. Che è un'isturazione. Ma non avevamo... Cioè, sì, io avevo dei sospetti. Prima che ci fossimo un progetto. Che potevamo avere un figlio. Sì. Però è successo molto bene. Infatti, quali? Che sono iniziare a vedere. Che è scatto. Sì. 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 La dottoressa. Sì. Sì. La dottoressa. Sì. 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 Ma anche il dottore. Sì. Ha avuto due dottore. Sì, il mio doctor personal è Gorgis, questo è per la specializzazione, per vedere che il bambino è sano e che è molto più sviluppato e crescita dentro del bambino. Sì, anche come era la salute, la connessione, perché il bambino quando è nella pancia della mamma, se è sano fa anche questo miracolo, cioè guarisce la mamma, cioè la mamma ha una salute in più. Sì, io sono bene, la mamma è buona, perché ho restato, per tutte le pregnozioni, ho restato, non ho un lavoro, ho restato, ho restato, ho restato, ho restato, ho restato, ho restato, ho restato. Ecco qua. Ecco qua. Sì, la meeting e la developing of our kid, Ciccio, is, thanks to the Lord, is very good and fully developed. So, could you see also the picture that we make, the preparanzi? Ah, sì, sì. Yeah. Praticamente, noi, c'è la dottoressa ha fatto una fotogramma. Yeah, this is a picture, this is a picture, look at that. In 3D. E sembra che il bambino stia facendo così com'è. No, facemi la fotografia, per favore. No, paparazzi. No, paparazzi. No, paparazzi. No, paparazzi. When the doctor said that you take the picture, you want to see the picture of your kid? And then, Ciccio, inside make like this. It's like, no, don't look at me. No, paparazzi. So, is this the time that we know the gender or no? At the second time that we come back, right? Yeah, no, no, it's not, it's not. It's the second. Very full HD, a picture. Del nefragisto. Eh, la dottoressa ha iniziato a capire se era un maschietto. 90%, 95% maschio. Last time, who died. Yes, it wasn't very nice. Whoa. Like that's an... What's her for like the cheers of being haunted? Yes, it's quite good. Let's see. It's... E presto? I know! I am wearing that t-shirt same I wear now. But look, I am very thin that. Now I am fat. Quindi andiamo nel secondo video. So this is the second video. I'm in the second... checkup. This is the second trimester. Right? Yeah, second trimester. Quindi possiamo vedere la testa è già più grande. The brain. Do you see that? The brain. Possiamo vedere il cervello. Incredibile. Yeah, you know what? And also... Una piccola spaziale che è diventata a mia moglie. It's like spacecraft. My moglie era la ramcella spaziale che c'aveva... Come go. But... And every time we go to the clinic, the doctor always say that he is in the right position. Ecco anche... Si vedeva la colonna vertebrale, che era giusta. The bones, the hands... Che eravamo preoccupatissimi che fosse tutto. E poi i coordinati tra la mia famiglia, la sua famiglia, gli ospedali, tutto è andato meglio di qualsiasino tra aspettative. E poi questi schermi che c'hanno comunque super di comodo. Ti senti proprio rilassato quando ti ho... E poi il mio cervello si diventano veloce e la mia pressione spaziale. Cioè... Alta pressione e un po' di ansia. Yeah. E quindi devi pensare di essere in una spiaggia o a berti un cocktail nelle fantastiche spiagge. Drinking coconut. Di Cipro, perché a Cipro comunque c'è la spiaggia di Afrodite lì, che è bellissima. Infatti ci sono i video quando siamo andati nella spiaggia di Afrodite. E che adesso io sto lavorando nel canale alle copertine. Che... Perché le copertine del canale... Ma se vedete le ultime, sono bellissime. Mi sto proprio impegnando la parte più artistica che c'è. Infatti a volte litighiamo, perché a volte la parte artistica prende il sopravvento. E questo è il momento in cui lei ci ha detto il giovane, certo? Quindi qua eravamo sicuri che era Paschio. Quindi avevamo già l'idea del nome. Cioè combinare il papà di Debbie e mio papà. Quindi Daniel e Francesco. Guarda, guarda, guarda. Questo è il giovane. Ciao, guarda, guarda. quindi si è confermato che è un ragazzo? è un ragazzo? no 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 perché lei pensa di essere politica What? What you said? I'm searching also the how the big how the the head how you call? the circumference of the head the circumference of the head della test per capire se la tutto no no perché come c'è it's very high-tech no? certo yeah and the good thing is she predicts when the baby arrives si ha calcolato it's the time to deliver the kids look at the feet look at the feet eccola qua la gente che si deve andare a scusare e non no 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 questo è una reazione speciale perché per esempio io vi abbiamo fatto un commento di iscriviti e per il punto di subscribe perché sicuramente mi stanno piacendo le video perché sicuramente mi stanno piacendo le video le video di iscriviti mi intanto io mi posso iscriviti qui mi sto facendo anche il video come faccio le video ecco mi città io come faccio le io come faccia ecco Quindi quel universo stanno piacendo, mi stanno piacendo perché questo è quello che facciamo prima Mi stanno iniziando a piacere, mi spiegherò Perché quando fai video, i tuoi video non ti piacciono Cosa significa? Quando fai video su Youtube, quando lo vedi ti dici No, questo video non è buono Quando vedi i primi video Quindi stiamo progettando Questa è la prima volta 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 3D, ecco la foto Questo è lo che dice quando è inizio Quando è inizio il side view La view of him è inizio Inizio il profilo Inizio il picture Comunque capite la tecnologia La tecnologia Sto inizio di fare Questo è per io Ecco qua Ecco qua Ecco qua Ecco Quindi spero che questo tipo di contenuti vi piaccia Perché comunque Questa cosa è la reaction Mi sta apprendendo molto Ho fatto anche la reaction In vari video Che comunque non si Cioè perché praticamente fai la telecronaca Quindi questo è il fai di uso 100% Però questo ovviamente è il nostro video Quindi se vi piacciono questi video Fateci sapere Quanti si sentono Sì, in realtà Questo è il nostro L'ultimo Visito Alla clinica Perché abbiamo deciso Quando ho 7 mesi E 2 mesi Abbiamo deciso Di Ciccio Le filippine Ah sì Questa è l'ultima volta Che siamo andati Nell'ospedale di Cipro Perché poi abbiamo Decido di venire in Filippina Sì Quindi abbiamo preparato Tutta la documentazione Per l'aereo Ho preso l'aereo Ho fatto i bagagli Immaginate Abbiamo fatto Un trasloco Cioè Take all Devevi avere Un trasloco Da Cipro Alle Filippine Mamma mia Un'esperienza Incredibile E poi lei Era ovviamente Incinta Di 7 mesi Abbiamo dovuto Anche contattare L'agenzia di viaggi Perché il bambino Può Cioè Lei può viaggiare Prima Non prima Di Cioè Dopo i 6 mesi Inizia a essere Pericoloso Poi Voglio fare Questa Questa Preview Che faccio Due piccioni Con una fava Aspettate la Perché praticamente Noi possiamo fare I live streaming Con L'invito Cioè I cannot do E quindi Abbiamo due telecamere In live stream Che è la nuova Fighissima Feature Che ci aiuta Cioè praticamente Quando fai live stream Può invitare La gente Quindi tu puoi vedere Senza usare StreamYard Può avere Due videocamere Nello stesso Stream O più Perché basta Che mandi Il link Di Twitter È una Una cosa Bella Quindi stiamo Progettando Il fare Dei live Del genere Questo è il nostro Ciccio Questo è il nostro Ciccio L'invito Ecco Come è il bambino Quindi Il nuovo Live streaming Che sto parlando Il nuovo Feature Di YouTube Può avere Due cameras Sì Live Può Può Invitare Live E And 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 So You Are Both Live Quindi Se Qualcuno Vuole Entrare Nella Mia Live Someone Want To Entrare I Put The Link And Can Entrare It's Very Nice Quindi Se Vi Piacciono Queste Super Reazioni Comunque Iscrivetevi Al